Correte gente mia pietrolata, però senza pagare la piggione, le case sono fatte di cartoni, se vanno a fuoco è proprio una rovina. Tengo un comodo tutto sfasciato, una sediazza e due banchetti, un orinale tutto intronato, qualche cucchino sfasciato, in cucina non ci proteggi, non ci accendi manca il fuoco, quei recimi ceppidocchi tutto il giorno sbadia, evviva pietrolata la gente che c'è sta.